ciao sono paola di mercatopoli bologna porto questo lavoro è stata una passione da sempre ma in realtà il negozio l'ho aperto insieme a mio marito e marco il nostro socio nel 2005 21 settembre del 2005 dover cambiare un po la mentalità della gente perché quando abbiamo aperto quasi 15 anni fa e il mondo dell'usato era veramente una concezione diversa da quello che oggi quindi trasformare la mentalità delle persone da quello che era un vecchio rigatiere in un negozio ecologico del riuso dell'usato con un'altra selezione della merce è stata la cosa più difficile abbiamo un negozio abbastanza assortito con oggetti ceramiche d'epoca antiquariato modernariato abbigliamento oggettistica attuali moderne prevalentemente firmati mobili adesso più modernariato che antiquariato perché un pochino si segue anche la tendenza siamo un negozio di tendenza in realtà essendo tanti anni che siamo nel settore siamo uno staff affiattato da 15 anni e ognuno di noi si è veramente specializzato in un settore quindi sia come venditore che come acquirenti trovi un'alta professionalità nella selezione della merce e nella vendita quello che trovi da noi è usato garantito e il nostro negozio si trova a bologna in via pasubio 39 vi presento ovviamente parte fondamentale dello staff pietro e marco ti aspettiamo vieni a trovare